Benvenuti di nuovo a Locus Airbus, stasera faccio vedere alcune cose, stasera parliamo di Dylan Dog Colorfest, sempre per dire alcune cose sul fumetto, faccio vedere altre cose che ho, gli anni ruggenti di Tupolino, di tante cose per parlare, è bellissimo questo della storia Eva Kant quando non c'era, Diabolic, bellissimo, disegnato da Palumbo, poi ho il mio solito Dago, Dago si è andato un po' indietro con Dago, questo è il Dottor Fauci, che si entra con Dylan Dog di questo mese, ovviamente Dylan Dog, questo era l'ultimo numero regolare, e questo è il Colorfest, che di solito io non compro mai, più di tutto perché la Bonelli, se si seguono tutti gli speciali da Bonelli, ci si perde 10 stipendi e non bastano, quindi onestamente l'avevo visto in edicola da qualche giorno, mi sembra che è uscito, ma non l'avevo neanche sfogliato, poi passando, stamattina ho preso Dago, non so, sono un baghiano, sapete, e sfogliandolo ho notato alcune cose che ovviamente questo disegno, questo tipo di disegno qui mi rimandava ovviamente a Dino Battaglia, Dino Battaglia, sapete, è stato un grande disegnatore, ha illustrato il crollo della casa degli Asher, che qui ovviamente viene citato in maniera abbastanza, soprattutto la vecchia signora, la casa, eccetera, eccetera, quindi avviene sicuramente queste scene qui, Dino Battaglia che, questo, no, qui rimaniamo, Dino Battaglia che si è ripasciata all'altro a una serie di film degli anni 60, credo, che era appunto Roger Corman, che aveva messo, ha fatto una serie di B-movie, come lo dico bene in inglese, no, B-movie, ma proprio, proprio bene bene, non so, cazzo, dopo che appunto Roger Corman aveva messo, proprio, aveva ripreso questi, cioè, i racconti di Rallampo e di Lovecraft, che ovviamente sono, ci ho fatto di diversi video su Rallampo e Lovecraft, quindi, su questo canale, io se mi riposassi un po', nel senso, andassi un po' in pensione, c'è avete 1160 video, quindi, già prima che uno li veda tutti, insomma, potrebbe passare diverso tempo, e naturalmente, dico questa cosa, nel senso, io non sono mai dell'idea, a volte, in alcuni numeri, in alcune serie, troviamo delle storie che sono, a dire pietose, è poco, certo, quando queste storie un po' pietose, se si susseguono con una certa regolarità, uno si può ponere anche un problema, se seguire la serie, però, tendenzialmente, io do sempre una possibilità, per esempio, quindi, per esempio, niente, per esempio, mi dite, Rallford, non è più, sì, lo so, ma io, questa è Tex Wheeler, questa storia, non era granché, no, non fosse granché, ma niente, neanche di speciale, disegnata molto bene, a Bonnelli si salva sempre con i disegni, e anche Zago, i Seminore, che sia una sedia, va bene, li rimandiamo, eccetera, eccetera, mentre, come ho detto, nell'ultimo video, un po', dico stronca, non stronca, insomma, come ho detto, che sì, Agatha Christie, va bene, disegni, cioè, anche qui, questa storia qui, che è perontrelli, si ha salvato i disegni, ora, io ho questa storia, però un grosso spoiler, quindi, metterò la prima, storia all'ultimo, quindi, perché, per parlare la prima storia, bisogna fare spoiler, non c'è verso, non è possibile non fare spoiler, quindi, se non l'avete letta, aspettate la fine del video, e magari vedete i primi due, cioè, partirò dalla seconda, e dalla terza, che, ovviamente, rossa la terra, e richiama Berenice, Berenice, è ovvio che, è un, mi sembra un color fest, dedicato molto, a Edgar Allan Poe, il primo, non è il coloro, a casa Iacero, mi dice, questo è Dino Battaglia, di la propria città, ah, scusate, i disegni sono tutti di, di Francesco Dossena, che mi ha citato una brevissima prefazione di Recchione, qui il Recchione ha fatto un buonissimo lavoro, poi, non so, non intendo discutere di Recchione, ecco, non intendo, non ha detto, io non so, cioè, c'è chi è da dentro, le metafisiche della Bonelli, io sono a Firenze, quindi, sono a Sceppa, che fanno a Milano, dentro quelle case, eccetera, eccetera, la Bonelli faccia quel che gli pare, certo, la serie regolare, io stavo rimettendo a posto, i miei di Randolph, insomma, canatina, nel senso, come il livello delle storie, cioè, nel senso, mentre il Colorfest, a volte, ha un tono molto sperimentale, anche questo, ovviamente, il disegno di Dossena è molto sperimentale, cioè, è apparentemente sperimentale, facciamo un discorso, questo video sarà un po' lungo, è apparentemente sperimentale, non tanto nell'impaginatura, sì, qui, ovviamente, un po' la linea bianca è saltata, ma, insomma, l'impaginatura, che manda le griglie, sì, qui abbiamo le cose nere, al posto di quelle bianche, però, insomma, l'impaginatura è essenzialmente classica, cioè, è la, sì, la pistola che sfora la vignetta, però non è la, la trasgressione del Colorfest, è nel disegno, non nella impostazione grafica, cioè, voglio dire, tra questo, e questo, la differenza è che questo, è nella formazione delle figure che sono più stilizzate, cioè, anche la sperimentazione si ferma sempre alla griglia, la griglia è sacra, nella Bonelli c'è il dio della griglia, che quello non si tocca mai, no, a volte, però, nel senso, quello è abbastanza, voglio dire, sì, certamente, qui, per esempio, c'è molta più libertà nell'impaginare le vignette, nel senso, questa vignetta così, è allungata, due piccoli, cioè, questo schema qui, di solito, difficilmente, se lo cercate in Zagol, se lo cercassi in Zagol, vabbè, sarà lì sepolto in un campo di grano, non è rosa, non è meno grano, che si fa l'uomo, l'uomo e le fosse, ma sono le papabri rossi, quindi, in realtà, l'innovazione di Dossena, è un'innovazione, nel tratteggio della figura, che rimanda molto, anche al fumetto americano, non so, molte cose, che giustamente, cita Verricchioni, si può essere, Ludus Mike, Mignola, Ted McKeever, e Dave McKinney, e poi Corrado Roy, certamente, c'è anche un influsso di Corrado Roy, che è certamente, il maestro di D-Rand-Dog, attualmente, più D-Rand-Dog, quando, cioè, io, scusate, per questo, non sono, quella schiera di persone, perché poi c'è anche il faratismo, il faratismo può essere, sia contro la Bonelli, sia a favore della Bonelli, no? Uno mi può dire, certamente, io, ho criticato spesso la Bonelli, e la critico come lettore, però, da qui a dire, non compro D-Rand-Dog, ce ne corre, perché a me, se fanno un album di Corrado Roy, disegno un album, lo compro, e penso, che chi non compra un album di Corrado Roy, disegnato a Corrado Roy, perché c'è anche l'ulgine, la Bonelli, non sia, sia un po' come darsi, da sindrome di Tafazzi, un album di Corrado Roy, lo può avere scritto anche Pasquale, non me ne frega nulla, i disegni di Corrado Roy sono talmente belli, che chi se ne frega, quindi, nel senso, è ovvio che, se prendiamo alcuni numeri di D-Rand-Dog storici, il Castello della Paura, Cagliostro, eccetera, eccetera, ciò dirà, sto rimettendo a posto, cioè, dopo un lungo silenzio, l'ultima storia scritta da Sclavi, è ovvio che, queste storie qui, non è che siano tutto questo gran che, ma non perché siano brutte, ma, insomma, c'è una sorta di routine, la routine, è ovvio che si fa tutto il mese una storietta, e va bene, ma non c'è quella cosa, ora, io poi non so cosa farò la parola. Comunque, Dossè è una grande disegnatore, ovviamente un disegnatore che ha un suo stile, ma, mi piace, mi piace molto anche questa, semplificazione del volto, estremamente, cioè, non è troppo, cioè, la sperimentazione nella, deformazione dei volti, non è spinta, a volte non è spinta troppo in avanti, e comunque, riesce, eh, a mantenere un equilibrio, è ovvio che, tra una sperimentazione, è comunque un disegno classico, che mi va benissimo, ho, sono tre storie, tre storie, una di, Nucci, che è quella più cattiva, Nucci è cattivo, perché in questa storia, non si dovrebbe fare una storia come questa, non è che non si dovrebbe fare, ma poi lo spiego alla fine, perché, è ovvio che nessuno la capisce, cioè, su cento lettori, la capisce uno, ma io non dico che sono un genio, però, avendo fatto un po' di latino, ho capito dove andare a parare, chi non ha fatto latino, secondo me, non ci ha capito, più di tanto, naturalmente, se tu devi fare latino, per capire una storia di Nandog, è tanta roba, è tanta roba, la seconda è di, Edrighi, e cita ovviamente, Berenice, sapete, la morte, no, Edira Lampò, è ossessionata, è un po' una riscrittura, del racconto di Edira Lampò, Berenice, dove, ovviamente, c'è un legame, tra la morte, tra una donna morta, che è un tipico, ossessione di Edira Lampò, la donna morta, che è morta, e che dica, nevermore, nevermore, quella roba lì, che stiamo a fare, poi ci ho fatto anche dei video, c'è, la morte, come spartiacque, tra la vita e la morte, ma anche tra l'amore e il non amore, c'è, continuare ad amare una donna morta, è in fondo qualcosa di, di contro natura, cioè, questo è in Edira Lampò, e quindi, Berenice, Morella, Ligeia, e tutti i racconti di Edira Lampò, che parla, soprattutto, di donne morte, che in Morella, che non vuole morire, eccetera, eccetera, sono varie, e anche qui, Edira, si è, buonasera, si si confronta con Berenice, e la sua, e il senso è che, in fondo, i morti, a un certo punto, bisogna lasciarli, andare via, perché è un concetto, anche molto giusto, nel senso, se si vive nel passato, io ho un passato terrificante, se vivessi nel mio passato, stavo rivisto, cioè, ho fatto vedere in classe, un film, allora, qui c'è tutto Roger Corman, nel primo, no? Poi ne parleremo, ma un film di Salce, che è un film quasi completamente dimenticato, credo, la cuccagna, lo trovate su YouTube, un giorno ne parlerò, della cuccagna, intanto lo trovate su YouTube, al libro a disposizione, di Luciano Salce, e le prime immagini, i primi dieci minuti, è un cortile, degli anni sessanta, dove dei bambini giocano, io ho avuto una sorta di flashback, cioè, era proprio così, nel senso, noi eravamo, quelle cose lì, quindi, forse, ho visto le recensioni, che non era granché, ma a parte c'era Luigi Tenco, cioè, un film interpretato da Luigi Tenco, per me, va visto, cioè, non si può non vedere, quando c'è la scena, lei attraversa la strada, dove gli fa, beh, se, se, se ti fai pecore, i lupi ti mangiano, cioè, con quella centra, beh, lui era mezzo torinese, cioè, tutta la storia di Luigi Tenco, lasciavo la perde, era figlio illegittimo, una nobile famiglia, vai, lasciavo, come, è nato, cresciuto nel, nel Liguria, ma lasciavo la perde Tenco, però, voglio dire, perché sono entrato in questo discorso? No, voglio dire, sì, no, dicevo che, non so, perché sono entrato in questo discorso, non mi ritengo, dicevo che, Berenice, il cinema, vabbè, non so, posso parlare di cinema, bah, mi sono perso nel mio, nel mio delirio, e non, vedete, Canno Nero mi aveva chiesto se io li registro prima i video, no, e non solo non li registro, non li preparo neanche, quindi faccio questo video, così, confusionario, poi lo semplicemente lo carico e basta. Dicevo, la seconda storia di Berenice, è ovvio che rimanda anche questo a film anche su di Roger Comer, che era un po', guarda, dice, i morti vanno lasciati stare, cioè, ah no, perché parlavo della dimenticanza, a un certo punto, non si può vedere del passato, e parlava appunto di Lugitenko, che è un personaggio, no, nel senso, c'è una cosa che a me, a me, a me, a me non si è bricià, mi lega a Lugitenko, a parte lui è nato, è morto nel gennaio 67, sono nato, non dico quasi un anno dopo, ma esatto, ma la storia di sua madre e di mia madre, sono storie molto simili, in cui, insomma, poi mi ci rivedo nel senso, non io, ma la storia dell'infanzia di Lugitenko, c'è qualcosa che rimanda a me, ma per altri motivi, cioè, per una storia simile, come la madre di Lugitenko è andata a servizio a Torino, mia madre è andata a servizio, si diceva a servizio a Roma, dicevo comunque, sì, i morti vanno lasciati andare, e ovviamente nel ricordo, quindi si richiama, ovviamente, ah sì, se tu, se tu vuoi ricordami, se tu vuoi dimentichami, infatti poi nella poesia di Nevermoody, ed era un po' il dramma del protagonista, che non riesce a dimenticare, l'ultima storia di Caglialli, è la storia, ovviamente, più psicologica, ovviamente, ci rimanderebbe la psicologia, il fatto che tutti noi, cioè il nostro, cioè il, vabbè, rimanda una storia appunto, dove le nostre angosce e paure, ci divorano da dentro, tutti i miei, però io nella mia vita ho capito, che tutti i miei problemi, sono tutti nella mia testa, per questo ho la grande passione, ve li ci tengo, perché, molto spesso, non ho che assomigli fisicamente, non so neanche cantare, neanche, o mia bella madunina, che te li ho un tanto, quindi, non ho nessun rapporto artistico, con Luigi Tenco, però, mi rendo conto, che certe, che certe, certe cose caratteriali, per questo leggo d'ago, cioè, con Luigi Tenco, mi ci ritrovo abbastanza, come personaggio, come, quando faceva le sue interviste, insomma, personaggio, per gli anni Sessanta, era molto avanti, ecco, molto più avanti, a scuola mi hanno chiesto, qual era il mio cantante preferito, all'inizio ho detto Paolo Conte, perché Paolo Conte lo adoro, poi ho detto, no, ho avuto una rimozione, no, non è vero, il mio cantatore preferito, è Luigi Tenco, anche se ha scritto, ovviamente, molto meno di Paolo Conte, se ti sei suicidato, ma perché sto dicendo tutto questo, ah, no, perché ovviamente, eh sì, c'entra Luigi Tenco, perché sono tutte le angosce, le paure, che ci divorgono, e che qui vengono rappresentate come una sorta di marziano rosso, di essere, che ci divora da di dentro, e che quindi, ehm, si nutre le nostre paure, angosce, nel senso che, diciamo, sono tutte seghe mentali, ecco, il 90% dei drammi della vita umana, sono seghe mentali, sono problemi che ci facciamo, che ci, noi pensiamo, il 90% che gli altri, gli altri non gliene frega niente di noi, il 90%, cioè non è che stanno a pensare a noi, mentre noi siamo ossessionati, se uno ha detto una cosa, hanno detto un'altra, quindi, e poi il continuo rimuginare su tante cose, io a un certo punto stacco la spina, a un certo punto stacco la spina, nel senso, vedo anche dei colleghi che non staccano la spina, non riescono a staccare la spina, e continuano, ma io a un certo punto, non è dirvi, che c'è da correggere il pubblico, è ovvio che, scusate, ho questo saltaggio, ma ovviamente, e ovviamente, è una storia molto bella, e ovviamente c'è una sorta di capo, di questi poliponi rossi, che si affermia molto a Grausso Mars, che ovviamente riunisce questi poliponi rossi, che si nutrono nella vita degli uomini, insomma, vabbè, e in un certo senso, sì, c'è anche una frecciatina sui social, nel senso, che tendiamo a fare gli splendidi, non lo so, io non faccio molto splendidi, perché sono, cioè, sono un disgraziato, cioè, se uno vede questi video, dice, ma questo qui, l'hanno preso fuori, però certamente, sì, il fatto che, tendiamo ad avere una vita virtuale, eccetera, eccetera, oppure riscattarci, io in realtà, faccio video su YouTube, no, nel senso, non ho, non scrivo su Twitter, non ho Instagram, ho solo profilo Facebook, e basta, che ultimamente, poi sto veramente, gestendo poco, su YouTube mi diverto a parlare, ma è uno sfogatoio, un po' come, quando si andava a confessarci, e quindi, è un po' una sorta di autoterapia, però in realtà, poi non sto molto sui social, nel senso, non ho, non scrivo molto sui social, prima sì, scrivo molto di più sui social, quando non veramente, mi limito giusto al video, finisci serale, e certamente, ovviamente, la Dirandong, salverà la fanciura dal mostro, che è un mostro psicologico, eccetera, e insomma, la morale e la favola, che sono tutte segmentali, la prima storia, quella un pochino più complicata, qui dovrò fare spoiler, perché ovviamente, sì, perché questa è molto legata, a Dino Battaglia, ovviamente, è una storia, dove il protagonista, è certamente, forse un po' il filo rugio, di queste tre storie, è il, è un personaggio, che è vestito di rosso, a volte, a volte, si veste di rosso, nella tradizione popolare, si veste di rosso, alle conna, e si chiede, del diavolo, però la storia di Nucci, è molto complicata, perché, una legge dice, sì, vabbè, ma non ho capito, e io ho fatto, la prima lettura, non l'avevo capita, poi, anche perché rimanda, un po', forse qualcuno ha letto, il club di Umà, da cui, da cui, come si chiama, Roman Polaschi, ha tratto le nove porte, qui si tratta, di una sorta, di rebus, c'è un misterioso, dipinto, di un, di un personaggio, che è uscito fuori, cioè, che sta, che, ovviamente, questo qui, questo dipinto, qui, dove si vede, una famiglia, non direi, sì, di contadini, insomma, di possidenti, contadini, vabbè, di campagna, il padrone, la padrona, una serva che prega, ma non c'è nulla su cui pregare, un altro servitore, che corrisponde, esattamente, ai personaggi, che sono, dentro la storia, io qui devo fare spoiler, se no, non se ne cava le gambe, il protagonista, di questa storia, che rimanda, proprio all'inizio, del Nove Porte, dove appunto, uno dei collezionisti, dei libri, è completamente partito di testa, qui la moglie, dice che era un collezionista, in questo caso, non di libri, ma di quadri, dall'aspetto strano, in realtà, un po' di quadri, ne diamo solo uno, lui aveva l'abitudine, di coprire questo quadro, la notte, perché, in realtà, prima della sua, la sua follia, insomma, della sua malattia, il quadro aveva questo aspetto, a un certo punto, alla mattina, spariscono il lupo, il serpente, il lupo, il serpente, e la morte, che qui viene detto, un mosso la facce, ma è la morte, più questo, questo aspetto qui, che va tenuto presente, la storia si dice, si chiama Aliquid Rubrum, è latino, qui Mucci, proprio, ha voluto da, Mucci, Nucci, hai voluto strafà, però, se for fa una storia così, perché qui ci vuole, c'è chi legge, la settimana, il misto, la risorre, ma chi l'altro, no, naturalmente, Aliquid Rubrum, Aliquid è neutro, e Rubrum, vuol dire qualcosa di rosso, si dice, che erano tre quadri, in realtà, si capisce perché, perché i tre quadri, sono tre parti, di un indovinello, che poi, la soluzione, viene data alla fine, io la doro anche alla fine, ma in realtà l'ho già data, quindi, Aliquid Rubrum, qui abbiamo tre animali, che sono ovviamente, il simbolo del diavolo, il lupo, il serpente, vabbè, la morte, che è collegata, strettamente con il diavolo, e più questa apparente luna, che è fuori, però, non tanti hanno capito, ci sono varie cose, quindi, e, alcune cose interessanti, che le foglie, coprono sempre, la data di morte, dei personaggi, non ho capito, perché Muzzi, l'abbia fatta, sta cosa, 2000, in realtà, poi, dal punto di vista numerico, non torna neanche, perché qui, ci sarebbe, 1511, 207, insomma, ci dovrebbe essere, qui riguarda, proprio a Dino Battaglia, Dino Battaglia, il collo da casa degli asci, questo è proprio il collo, della casa degli asci, proprio come, e ovviamente, ovviamente, scusate, si scopre alla fine, che il protagonista, quello che poi è impazzito, è un adoratore del diavolo, qui, il Sicilio, è effettivamente, cioè, è stato tutto fatto, in maniera abbastanza, filologica, e a Staroth, e poi, ad un certo punto, di un mondo, che capisce, cioè, per capire, il finale della storia, il finale della storia, Dino Battaglia, come il protagonista, del Nove Porti, chiaramente, è stato da Coso, da John Depp, Johnny Depp, a un certo punto, capisce il senso, perché, se ci fate caso, è una sorta, non c'è, no, a un certo punto, scusate, mi sto un po' impappinando, la, Dino Battaglia, affronta un mostro, che dice, una strocca, in latino, capite, sti video, non so, preparati, quindi, aliquid rubrum, aliquid flavum, aliquid tenebris, aliquid rubrum, vuol dire, qualcosa di rosso, aliquid flavum, però, in questo caso, non è neutro, è, flavum, è un aggettivo, flavus, flava, flavum, quindi, è un, può essere, un dativo, un ablativo, qualcosa, con quel, qualcosa, con qualcosa di giallo, e l'ultima, aliquid tenebris, qualcosa che è nelle tenebris, capite che è un indovinello, è un pure semplice indovinello, cioè, dovete indovinare, qual è qualcosa di rosso, qualcosa che ha qualcosa di giallo, ecco, ho fatto questo gesto, che ha fatto di si iscrivere 20 persone, ecco, è qualcosa che vive nelle tenebris, quindi, è una serie di tre quadri, per cui, in questo fumetto, c'è solo aliquid rubrum, è ovvio che, se ci fate caso, poi chiudo, perché vive sta diventando lungo, dovete capire, dovete vedere, questa immagine qui, diventa, la soluzione finale, del rebus, questa qui, diventa questa qui, a un certo punto, Dylan Dogg entra nella campella sconsacrata, e vede, non è un foce, apparentemente sembra un pozzo, ma non è un pozzo, e si vede il diavolo, che si capisce, quella cosa gialla è l'occhio del diavolo, che sta osservando dalla finestra, sta osservando dalla finestra, e quindi si capisce, alla fine, che cos'era, quindi, in questa scena, è il diavolo, che sta osservando dalla finestra, e quindi, è una sorta di, di meta fumetto, nel senso che, ovviamente, è come se noi fossi, a prestare un fumetto, e il diavolo ci stesse guardando, dalla finestra, ora, io, Nucci, ti dico solo sta cosa, Nucci, ma, ma, perché, ma scusa, Nucci, cioè, quindi, i fumetti, sono una cosa facile, leggera, è tanta roba, perché io sfido, cioè, io non ho visto altri video, non so, a che cosa è stato detto, però, è questa la spiegazione, della prima storia, ed è una spiegazione, che richiede anche, un certo attenzione, perché, anche, una certa conoscenza, in latino, la conoscenza, la differenza, tra un complemento oggetto, un complemento di modo, e un complemento di l'uomo, a liquid tenebre, se è qualcosa che sta nelle tenebre, è qualcosa che è rosso, sta nelle tenebre, e c'è qualcosa di giallo, che è poi la soluzione finale, e si capisce perché il protagonista copriva sempre, nella notte, il quadro, perché nel quadro, c'era l'occhio del diavolo, che guardava, che guardava, l'occhio del diavolo, che guarda, anche noi, quindi guarda i protagonisti, ma anche noi, quindi lo copra, perché appunto, i tre emissali del diavolo, e poi alla fine, esce direttamente il diavolo, e con Dylan Dog, che incontra il diavolo, esattamente come nelle nuove porte, si chiude a questo punto, tanta roba, tanta roba, tanta roba, io non so perché gli è presa questa cosa, non c'è, però questa è una cosa troppo, è troppa roba, per me è troppa roba, no nel senso, no ma a me, io mi sono divertito molto, questo complemento, mi è piaciuto molto più questo, che il Dylan Dog classico normale, però, nel senso, che insomma, io dubito che, naturalmente, torneremo come la Divina Commedia, ci sono vari livelli di lettura, quindi c'è un livello di lettura semplice, e poi il livello di lettura, un po' più complicato, di cui ho fatto, una sorta di, spiegazione, e che ora, cioè quindi, ovviamente questa è la fine del video, però io ho detto all'inizio, se non avete necessità, se volete provare a risolverlo da voi, dovete aspettare la fine del video, dove andate, prima leggere la storia, e poi vedere il video, comunque fate a poco, ma a me pari, metto all'erta, spoiler, e basta, e qui, chiudo, che, questo video mi è durato 27 minuti, perché la prima storia era tanta roba da spiegare.